eccomi sono io sono gabry costa il famoso youtuber datemi a sentire siamo arrivati al terzo livello di warriors fate insieme a questo gioco capcom beat em up bundle ma vi avverto questo terzo livello sarà diviso in due parti la prima parte la guarderete in questo video mentre nella seconda mentre la seconda parte la guarderete nel prossimo video ci sono anche nemici di bassa statura con le spade ma perché qualcuno minaccia dei barri addosso vediamo quanto durerà questa recensione dobbiamo ancora scoprire chi sarà il boss del terzo livello di warriors fate vi sto facendo viaggiare tra i ricordi ragazzi e poi vorrei sapere da voi se questo joe l'avevate trovato nella sala joe diamo fuoco a questo luogo sapete chi è il boss da affrontare questo terzo livello è un omone gigantesco con un martellone taranis si chiama vediamo di farlo fuori di ucciderlo e poi a una doppia barra della salute sarà difficile completare nove livelli di warriors fate due ne abbiamo già completati ora bisogna fare il terzo livello ve l'ho detto il terzo livello è diviso in due parti in questa prima parte qua derete il boss taranis stiamo facendo una terribile battaglia in questo luogo avvolto dalle fiamme ho eliminato taranis la prima parte del terzo livello è conclusa mettete un mi piace iscrivetevi al canale ciao a tutti vi aspetto nella seconda parte del terzo livello vi aspetto